va ricevendo la comunicazione non si può abbassare non si può abbassare la televisione è a 83 è basso il volume e partite certo io sono stanca io sono stanca di queste cose non ci siamo però non ci siamo signora quando una mamma si arrabbia le sbatte le cose cioè le pettole deve sbattere deve far capire che le ha arrabbiata cioè sbattere gli sportelli parlare sottovoce che si lamenta e lei soprattutto quando un padre guarda le partite non è così tranquillo mi posso arrabbiare deve essere arrabbiato contro l'arbitro non posso dire qualcosa nei confronti dall'arbitro soprattutto vendute ok sta la roma di energia questa scena che la quindicesima volta come era un messo così ok signori motori ok non te cena 4 madre che si arrabbia mentre marito guarda la partita azione guarda la partita azione guarda la partita azione guarda la partita azione